A proposito di numeri e non numeri, dobbiamo considerare che delle relazioni di commensurabilità si è occupato Euclide nel libro 10 degli elementi, dannone due definizioni. La prima definizione chiarisce che le grandezze commensurabili sono quelle che possono essere misurate con un'unità di misura comune, mentre le incommensurabili non trovano un'unità di misura comune. La seconda definizione distingue nell'insieme delle varie grandezze i segmenti, quali quelli di cui ci siamo serviti per indicare le corde vibranti, e le superfici, quali ad esempio il quadrato utilizzato da Socrate. In tal modo la commensurabilità o meno dei segmenti può essere valutata da due diversi punti di vista, o considerando la loro lunghezza, o valutando l'area dei quadrati le cui radici sono costituite dagli stessi segmenti. In quest'ultimo caso si parla di commensurabilità in potenza. Nella figura a sinistra il noto rapporto 2-1 è rappresentato dalle due lunghezze AK e BK. In corrispondenza delle lunghezze AK e BK sono indicate due caselle che visualizzano lungo la fascia immaginaria del continuum la posizione reciproca dei due suoni misurati in Hertz. Anche il numero delle loro vibrazioni è in rapporto 2-1, perché 432 sta a 216, come 2 sta a 1. Nella figura a destra le lunghezze della figura precedente fungono ora da radice di due quadrati. Il quadrato che ha come radice AK, quindi AK al quadrato, è il quadrato che ha come radice BK e quindi BK al quadrato. Ma l'immagine dei due quadrati mostra che nell'originario rapporto 2-1 è avvenuto un evidente cambiamento, perché il rapporto non è più 2-1, bensì 4-1. Cosa è successo? È successo che qui si è passati dalla commensurabilità lineare alla commensurabilità in potenza e l'originario rapporto lineare è stato proiettato in un'altra dimensione, cioè acquisito una diversa profondità. Si tratta di quella dimensione che si presentava agli occhi arcaici quando le successive congiunzioni di Venere, che nel corso di otto anni si disponevano ritmicamente lungo l'asse lineare del tempo, trasfiguravano in una visione sinottica, simboleggiata dal pentagramma, la famosa stella a cinque punti con il relativo bagaglio di razionalità che conosciamo. Lo scorrere lineare del tempo si curvava su se stesso per indirizzarsi alle profondità di una dimensione temporale di altra natura, ed è poi quello che succede con il linguaggio musicale, che macina incessantemente la monotonia della linearità metronomica, la polverizza in immagini che attingono dimensioni temporali senza dubbio coinvolgenti e senz'altro affascinanti, ma che nemmeno i più bravi tra i nostri graffitari del foglio di protocollo sono mai riusciti a catturare con le reti del linguaggio verbale. Ne mai riusciranno. Insomma, un maramao continuo all'ecfrastica. Vediamo ora come trovare la radice del quadrato corrispondente al medio geometrico. Il procedimento è quello di Socrate. Tracciamo la diagonale del quadrato di lato BK, la cui superficie è 4. La diagonale corrisponde al lato, ovvero alla radice, del quadrato la cui superficie è la metà del quadrato di 16, la cui radice è AK, e il doppio di quella di 4. La sua superficie corrisponde quindi a 8 e la misura del suo lato sarà allora la radice di 8. Ma la radice di 8 è un numero incommensurabile. Tuttavia, la lunghezza corrispondente alla radice di 8 è ben visibile e può essere trasportata sulla lunghezza AK nel punto W. In corrispondenza di V doppio, collochiamo una casella di colore nero, proprio come i tasti neri del pianoforte, colore con il quale differenziamo i suoni derivati dalla commensurabilità in potenza da quelli corrispondenti alle lunghezze commensurabili. VK divide il continuum delimitato dalla diapason in due sezioni perfettamente simmetriche. Diciamo quindi che non vi è compatibilità concettuale tra la diapason e il medio geometrico. Nella diapositiva sono stati posti, in corrispondenza degli estremi della diapason, i numeri relativi alle vibrazioni misurate in Hertz ipotizzate per le due corde corrispondenti ai termini della diapason. Se inseriamo i due numeri in una proporzione geometrica, cioè 432 sta al medio geometrico come il medio geometrico sta a 216, possiamo controllare che moltiplicando 432 per 216 si ottiene il numero 93.312, la cui radice corrisponde a 305,4701 eccetera eccetera eccetera. E in effetti se avessimo un pianoforte in cui il La fosse di 432 Hertz anziché di 440 come l'attuale ed estressimo la radice quadrata del prodotto di 432 per 216 avremmo un suono corrispondente al medio geometrico di 305,413 eccetera Hertz, corrispondente più o meno al nostro attuale Re diesis. Questo per dire che il medio geometrico considerato isolatamente è un suono come tutti gli altri nel senso che le sue intrisiche proprietà consonantiche non sono differenti da quelle che contraddistinguono la diapason di cui è medio geometrico e la sua natura di grandezza commensurabile in potenza si manifesta e si percepisce solo se è correlato agli estremi della diapason da cui è generato. La situazione in questo senso ci rimanda per analogia a quella dell'eclittica. L'eclittica in ultima analisi è un'orbita cioè un'immagine mentale che in se stessa non ha nulla di diverso dall'orbita dell'equatore celeste. Tuttavia il suo essere lungo la diagonale come dice Platone nasce nel momento in cui viene ad essere correlata a quest'ultima e allo stesso modo il medio geometrico come termine costituente di una diapason forma una consonanza cioè la consonanza di diapason. Posto invece in correlazione con i termini della diapason da cui è generato forma una dissonanza. Tra la diapason nel medio geometrico vi è la relazione di opposta complementarità che nel Tao è simbolizzata dal Tao Ki Tu citato nel memoriale dei riti di Tai il vecchio come rappresentazione simbolica dallo stretto rapporto tra il calendario e la musica. Come si vede nello schizzo in basso a destra i due colori delle superfici che dividono il cerchio rappresentano la complementarità dei due principi femminile Yin e maschile Yang. Complementarità che rinvia una serie di opposizioni la cui storia affonda le radici in un lontano lontano passato. La presenza di una grandezza incommensurabile all'interno della diapason ha, come vedremo meglio di qui a poco, una funzione demarcatrice di fondamentale importanza. Da questa presenza dipende la determinazione del numero di suoni che possono essere considerati pertinenti o congruenti a un sistema caratterizzato dalla commensurabilità dei due termini della diapason. Come se visto finora con il rapporto 2-1, considerato l'essenza della diapason, nell'ottica arcaica i rapporti numerici garantivano l'esistenza delle cose. Conseguenza inevitabile della presenza dell'incommensurabile era quindi la necessità di definirne i limiti in termini di commensurabilità. Da qui ha origine la ricerca delle medie, cioè di quei suoni corrispondenti a lunghezze commensurabili che definissero i limiti dell'incommensurabile. Insomma, si dovevano trovare delle corde la cui lunghezza fosse di quel tanto superiore e di quel tanto inferiore a quella del medio geometrico da poter essere misurate con unità di misura congruenti con quelle dei due termini della diapason. Vediamo da vicino i due precedimenti. Entrambi sono basati sull'impiego di un'unica misura campione, la corda BK, misurata però in base a due diverse unità di misura. La prima è misurata su base binaria, la seconda su base ternaria. In parole povere, la misura campione è prima divisa in due parti e poi in tre parti. Cosa lega le due misure? Con tutta probabilità l'idea pitagorica che il 2 fosse un numero di natura femminile e il 3 un numero maschile, il che poi rinvia ancora una volta alla complementarità simboleggiata dal Taichi Tu e alle conseguenti connotazioni di natura cosmologica. Ma vediamo, nel diagramma a sinistra c'è il primo limite, la corda XK. Da che cosa è caratterizzata? È caratterizzata dalla lunghezza. Se la confrontiamo con le lunghezze dei termini della diapason, AK e BK, vediamo che supera il termine minore BK di un'unità di misura ed è superato dal termine maggiore della stessa unità. La corda XK è più lunga di quella corrispondente al medio geometrico VK, per cui corrisponderà a un suono più grave e quindi deve essere posta alla sinistra del medio geometrico. chiameremo ISK il limite occidentale. Se per trovare il primo limite ci si è serviti di un'unità di misura corrispondente alla metà del segmento minore, ora per il secondo limite dobbiamo rimpicciolire l'unità di misura in modo da farla corrispondere a un terzo. Aggiungiamo allora al termine BK la nuova unità di misura che corrisponde a un terzo della lunghezza. Ma a questo punto dal segmento maggiore AK non togliamo, come abbiamo fatto in precedenza, la quantità corrispondente all'unità di misura, cioè un terzo, bensì quella corrispondente a un terzo della sua lunghezza, che a sua volta corrisponde a due volte l'unità di misura. Il nuovo limite YK risulta più corto del medio geometrico e quindi lo si colloca alla sua destra. E questo sarà il limite orientale. Ma siamo sicuri che i simbolismi pitagorici siano alla base delle procedure matematiche utilizzate per individuare i limiti dell'incommensurabile? O non è piuttosto il metodo di ricerca, basato sulle figurazioni geometriche con cui visualizziamo il calcolo, ad essere alla radice dei simboli. Da un punto di vista matematico, il limite occidentale è derivato dalla somma delle lunghezze degli estremi della diapason, cioè AK più BK, e dalla sua divisione simmetrica. AK sono quattro unità, più BK sono due unità, e XK deriva da 6 diviso 2, quindi tre unità. Tra i due diagrammi è inserita la visualizzazione geometrica del procedimento mediante il quale si divide in perfetta simmetria una lunghezza qualunque. Nel nostro caso la corda la cui lunghezza corrisponde alla somma delle lunghezze delle corde estreme. La procedura utilizzata per dividere in due parti uguali il segmento corrispondente alla somma della corda maggiore e di quella minore è la più semplice delle procedure geometriche. Consiste nel tracciare due archi di circonferenza con un raggio uguale alla lunghezza del segmento e centro sui due estremi, quindi congiungere con una linea retta i punti di intersezione dei semicerchi. Ebbene, dall'intersezione delle due circonferenze affiora una figura ovale, le cui connotazioni affondano le radici in un patrimonio simbolico che si spinge indietro nel tempo fino ai riti preistorici legati al culto della grande madre. Si tratta della vessica piscis o mandorla. Ora, poiché il punto medio divide segmento in due parti di tre unità ciascuna, ne consegue che essendo la lunghezza del termine maggiore della diapason a k di quattro unità di misura, la parte corrispondente al limite occidentale xk, che ne misura tre, forma con il termine maggiore un rapporto di 4-3. Ma questo stesso limite nei confronti del termine minore bk forma un rapporto 3-2. A questo punto la definizione o l'essenza della diapason, per dirla con Aristotele, si arricchisce e si completa in quanto è interpretabile anche in termini di intervallo composto. Composto, cioè, dalla consecuzione dei rapporti 4-3 e 3-2, rapporti che altro non sono se non la traduzione in immagini numeriche del procedimento geometrico da cui ha avuto origine la vessicca piscis. Il limite orientale è in posizione speculare rispetto a quello occidentale. Infatti, il rapporto tra il limite orientale yk, o d'ora in avanti è più semplicemente la corda y, e il termine minore, la corda b, è identico a quello tra il termine maggiore, la corda a, e l'occidentale, la corda x. E questo vale anche per l'altro rapporto, x sta a b, come a sta a y. La consecuzione dei rapporti è quindi la retrogradazione della precedente consecuzione 3 sta a 2 e 4 sta a 3. Se si guardano di seguito le consecuzioni dei rapporti formati dai due limiti, cioè 4 sta a 3 più 3 sta a 2 e 3 sta a 2 più 4 sta a 3, si può osservare che la seconda è la conseguenza di un movimento rotatorio della prima attorno a un'asse rappresentata dal medio geometrico e viceversa. L'essenza è dunque costituita dall'opposizione di due realtà sonore che si complementano e si autodefiniscono reciprocamente. Le testimonianze scritte relative al procedimento con cui si sono definiti i limiti del medio geometrico appartengono alla tradizione pitagorica, la quale parla di medio aritmetico per il limite occidentale e di medio armonico per quello orientale. L'insieme delle tre consonanze rappresenta l'essenza della diapason e costituisce il modello in base al quale si è organizzata la realtà musicale in sistema scalare. Vi è un passo della metafisica in cui Aristotele critica l'idea pitagorica secondo cui i numeri hanno una loro esistenza autonoma, non dipendente dalle cose che da questi numeri vengono ad essere numerate. In proposito si domanda, non è forse vero che nelle Pleiadi ci sono sette stelle per il semplice fatto che siamo noi a contarne sette così come ne contiamo dodici nell'orsa maggiore, mentre ci sono altri che ne contano di più e, sempre per esemplificare, ricorda poi che nella lingua greca le lettere XI, PSI e Z sono considerate consonanze. Quindi commenta, non sono consonanze in se stesse, ma sono ritenute tali perché tre sono le consonanze musicali. Ci dobbiamo allora domandare quale sia il motivo per cui, pur sapendo che nelle costellazioni, nel nostro caso le Pleiadi e l'orsa maggiore, vi è un numero variabile di stelle, a seconda delle capacità percettive dei singoli, se ne sono considerate precisamente sette nelle Pleiadi e dodici nell'orsa maggiore. E la spiegazione che ricaviamo dalle Aristotele è che la realtà ha un senso nella misura in cui riusciamo ad adattarla a griglie concettuali derivate dai concreti metodi di indagine di cui ci serviamo per interpretare situazioni di carattere contingente e che in seguito utilizziamo come modelli di riferimento. A questo proposito, Platone, nella Repubblica, ci parla dei geometri che quando utilizzano a scopo esemplificativo le figure geometriche non le considerano se non come immagini contingenti di elaborazioni concettuali volte alla definizione dell'essenza, cioè del significato che deriva dal lavoro concettuale messo in opera nella definizione della loro forma. E l'osservazione di Aristotele avrebbe giuvuto già da tempo mettere in guardia coloro che con teratologica pervicacia sostengono che il numero dei suoni accolti nei sistemi scalari derivi da osservazioni planetarie. Sarà vero forse il contrario, o no? In questo senso, l'organizzazione delle tre consonanze che ruotano attorno all'incommensurabile è la rappresentazione visiva di uno strumento concettuale per mezzo del quale la realtà sonora e non solo diventa interpretabile e quindi significativa. Così come la correlazione dei due suoni in rapporto di diapason, essendo esprimibili in termini di commensurabilità, formano una consonanza, la consonanza di diapason, così la correlazione di uno dei due termini della diapason con il limite occidentale o la sua correlazione con il limite orientale, formano altrettante consonanze. Le consonanze venivano indicate in base al rapporto numerico che le caratterizzava. La correlazione in cui era coinvolto il limite orientale, il cui rapporto numerico era di 4 a 3, era definita sesqui-terza. A proposito di sesqui-terza, la parola è composta da sesqui che significava l'unità di misura aggiunta al numero di unità utilizzate nella definizione della misura modello e da terza che indicava il numero di segmenti in cui era stata suddivisa la misura modello. Quindi il termine sesqui-terza risponde alla domanda a quale parte si arriva contando le segmentazioni della misura modello? Risposta alla terza parte e quindi terza. E poi quante di queste terze parti sono state aggiunte alla misura modello? Risposta una sola e quindi sesqui. E lo stesso si può dire per la sesqui-altera, solo che in questo caso alla domanda a quale parte si arriva contando le segmentazioni della misura modello? La risposta era una e poi solo un'altra, quindi si arrivava solo all'altra delle due. Ed ecco sesqui-altera, cioè tre parti contro due. Schrödinger vedrebbe tutta la faccenda in termini di tre gatti vivi, le consonanze di diapason di sesqui-terza e di sesqui-altera, e di un gatto morto, incommensurabile medio-geometrico. Sarebbe come immaginare il cadavere di Maramao dietro quella porta chiusa davanti alla quale le gattine innamorate fanno ancora le fusa. Ma le gattine non hanno poi tutti i torti a farle fusa davanti alla porta chiusa, perché Maramao in questo caso e a dispetto di Schrödinger è, come vedremo, sia vivo che morto. L'essenza dell'insieme di diapason, sesqui-terza e sesqui-altera, dipende dunque dal fatto che le tre gattine ruotano idealmente attorno a un perno centrale costito dall'incommensurabile medio-geometrico, Maramao, alla cui presenza sono legate le due consonanze di sesqui-terza e di sesqui-altera. E il moto circolare ci ricollega alle immagini cosmologiche viste in precedenza. Del resto Platone affermava che come gli occhi sono destinati all'astronomia, così le orecchie sono destinate al moto armonico e queste due scienze sono tra loro sorelle. Vale quindi la pena di trasformare le lunghezze in misure angolari e sostituire ai segmenti le circonferenze. Non tanto perché le circonferenze siano belle in se stesse, come dice Platone nel Filebo, parlo di qualcosa diretto e di circolare e delle figure piane e solide che da essi derivano. Non dico che queste siano belle in relazione a qualcosa come le altre cose, ma che sono generate belle in se stesse. Dunque, non perché siano belle in se stesse, dice Roma, per il semplice motivo che solo così facendo potremmo scoprire come venne determinato il numero delle note della scala e perché non tutte abbiano ricevuto una denominazione autonoma o, se vogliamo, perché non siano state tutte regolarmente battesimate. Nella figura di destra le due corde in rapporto 2-1 rappresentano i diametri di due circonferenze. Il vantaggio dalla sostituzione di una lunghezza con una circonferenza è che, indipendentemente dalla lunghezza del diametro, la sua misura angolare è sempre di 360 gradi. In un certo senso, il rapporto di Diapason passa dalla rappresentazione spaziale di tipo lineare a una rappresentazione sinottica, tipica delle rivoluzioni planetarie e simile a quella che ci ha permesso di rappresentare in un pentagramma le congiunzioni di Venere. Trasformiamo quindi in orogramma il diagramma relativo alla sesquiterza. La corda A corrisponderà ora alla circonferenza di un cerchio e, poiché il rapporto tra la corda A e la corda X corrisponde numericamente al rapporto delle lunghezze 4 e 3, dovremo tradurre le lunghezze in misure angolari. Trasporti sul cerchio. I due numeri significano che l'intera superficie del cerchio, la cui misura angolare corrisponde a 360 gradi e che rappresenta suono più grave della diapason corrispondente alla corda A, è stata divisa in quattro settori, ciascuno di 90 gradi. Ed è lo spazio occupato da tre dei quattro settori che visualizza la misura angolare della sesquiterza, corrispondente alla corda X, cioè 90 gradi moltiplicato 3 uguale a 270 gradi. La sostituzione del cerchio alle corde ci permette di visualizzare i limiti dello spazio sonoro assegnati alle singole note, mediante la misurazione dei relativi confini. Il limite della sesquiterza è quindi rappresentato dalla linea che delimita il settore contrassegnato dal numero 3, al confine con la superficie non tratteggiata. Il termine greco per limite o confine è OROS e quindi chiameremo il cerchio contenente le delimitazioni OROGRAMMA. Ora trasponiamo sull'OROGRAMMA la sesquialtera. I numeri corrispondenti al rapporto di sesquialtera, come sappiamo, sono 3 e 2. Il che significa che il cerchio è stato diviso in tre settori, ciascuno di 120 gradi. Ed è lo spazio occupato da due dei tre settori che visualizza la misura angolare della sesquialtera, che corrisponde alla corda Y. Cioè 120 gradi moltiplicato 2 uguale 240 gradi. Anche in questo caso il limite della sesquialtera è rappresentato dalla linea che delimita, al confine della superficie non tratteggiata, il settore contrassegnato dal numero 2. La diapositiva riassume la situazione. Sopra abbiamo il rapporto 4-3, l'unità è stata divisa in quattro parti, il termine medio corrisponde all'estensione dei settori 1, 2 e 3 in corrispondenza del numero 4. L'estensione è di 270 gradi. Sotto abbiamo il rapporto 3 e 2, l'unità è stata divisa in tre parti. Il termine medio corrisponde all'estensione dei settori 1 e 2 in corrispondenza del numero 3. L'estensione è 240 gradi. È quindi possibile misurare con precisione lo spazio destinato al medio geometrico e, assumendolo in termini di unità di misura, determinare il numero di spazi, o meglio settori, in cui può essere segmentato l'intero cerchio. Si tratta semplicemente di sovrapporre i due orogrammi. Dalla sovrapposizione otteniamo un terzo orogramma, l'orogramma a destra, in cui la superficie non tratteggiata rappresenta lo spazio che intercorre tra il limite corrispondente alla sesquiterza, di 270 gradi, e il limite corrispondente alla sesquialtera, di 240 gradi. Ora, se da un limite voglio arrivare all'altro, devo percorrere 30 gradi. E lo spazio di 30 gradi non solo è lo spazio assegnato all'incommensurabile, ma è anche lo spazio assegnabile ai due limiti e, più in generale, è l'unità di misura che consente di segmentare il continuum all'interno della diapason in tanti settori di 30 gradi, quanti ce ne stanno in 360 gradi. Cioè, 12 settori, non uno di più, non uno di meno. Questo è il motivo per cui la diapason non tollera di essere segmentata in un numero di settori superiori a 12. Per lo stesso motivo viene totalmente deprivata di senso nel momento in cui si cassa artificialmente la caratteristica ed essenziale complementarità oppositiva, caratterizzata dalla presenza dell'incommensurabile in opposizione al commensurabile. Se ripensiamo alle osservazioni di Aristotele a proposito delle tre consonanze xi, psi e zeta, o a proposito del numero delle pleiadi, non possiamo evitare di mettere in correlazione la suddivisione dello zodiaco in 12 case di identica ampiezza, a dispetto della reale estensione delle configurazioni zodiacali, con l'articolazione duodenaria della diapason. Come ha osservato Ertha von Decken, coautrice con Giorgio de Santilliana del famoso il mulino di Amletto, madre natura non è stata prodiga di misure assolute sulle quali costruire un sistema di misure normate. Vi sono il giorno e l'anno, cioè misure temporali. Vi sono gli intervalli armonici e niente altro. E il fatto che le misure celesti e quelle musicali fossero ab antico interconnesse spiega la presenza di racconti, come quello che adesso vediamo, caratterizzati dalla ripetizione ossessiva del numero 12, in un contesto le cui intenzioni non erano certo quelle di darci delle informazioni a proposito delle unità di misura. Si tratta dell'Apocalisse di Giovanni. Leggiamo il testo. E mi trasportò in spirito su di un grande e alto monte, e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da presso Dio, avendo la gloria di Dio. E il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Essa aveva un grande ed alto muro con dodici porte, e alle porte dodici angeli, e su di esse dei nomi scritti che sono i nomi delle dodici tribù dei figli di Israele. A oriente vi erano tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, e ad occidente tre porte. Il muro della città aveva dodici fondamenti, e su quelli erano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro, per misurare la città, le sue porte e il suo muro. La città era a forma quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era di dodicimila stadi. La sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. Misurò anche il muro, ed era di centoquarantaquattro cubiti, a misura d'uomo, cioè d'angelo. Dalla superficie lineare del testo emergono tre numeri, scanditi e reiterati con ritmica determinazione. Abbiamo per ben sei volte il numero dodici. In apertura le dodici porte, i dodici angeli, i dodici nomi delle tribù, e poi ancora i dodici fondamenti, i dodici nomi e i dodici apostoli. Vi sarebbe un altro numero dodici, il dodici dei dodicimila stadi, ma come vedremo questo dodici, diciamo arricchito, fa parte di una diversa strategia narrativa. Poi abbiamo per quattro volte il numero tre. Le tre porte a Oriente, le tre porte a Settentrione, le tre porte a Mezzogiorno, le tre porte a Occidente. Infine il numero centoquarantaquattro, cioè l'altezza del muro perimetrale. Ora, se facciamo scorrere le immagini secondo l'ordine della narrazione, la prima immagine che ci viene presentata è quella di un rettangolo, un grande alto muro, ritmicamente interrotto dalle aperture corrispondenti alle dodici porte. Quando poi il testo ci avverte che di quelle dodici porte tre sono a est, tre a nord, tre a sud e tre a ovest, l'immagine bidimensionale della striscia si ripiega su se stessa in modo da assumere la forma di un quadrato ora in uno spazio tridimensionale. In altri termini si tratta della trasfigurazione in immagini di una elementare operazione matematica, la divisione di dodici per quattro e per tre. Infatti, dodici diviso quattro uguale a tre e dodici diviso tre è uguale a quattro. Ma tre per dodici è uguale a trentasei e trentasei per quattro è uguale a centoquarantaquattro. Ma questo per dire che il testo ci vuole comunicare che i numeri non sono casuali ma hanno una loro ragione d'essere ed è il motivo per cui anche le modalità descrittive vanno interpretate come indizi di presenze numeriche. Mi riferisco alla descrizione della città, descrizione che si realizza con una tecnica, diremmo oggi, cinematografica. Cioè si parte da un'immagine panoramica, la forma quadrangolare della città, per passare ad inquadrature ravvicinate di particolari diversi, la lunghezza e la larghezza e poi, cambiando prospettiva, la lunghezza, la larghezza e l'altezza. Si tratta di una tecnica narrativa mediante la quale si focalizza l'attenzione sulle corrispondenze numeriche. Non diversamente si sia comportati con i nomi degli Apostoli sui dodici fondamenti. Perché qui Giovanni non si è limitato a dire che su quelli erano i dodici nomi degli Apostoli, ma ha ripetuto il numero dodici anteponendolo sia ad Apostoli che ha nome, i dodici nomi dei dodici Apostoli. E anche ora, per prima cosa, ci dice che la città era quadrangolare e quindi di quattro latri, con chiaro riferimento al numero quattro. Poi inquadra in primo piano la lunghezza e la larghezza, dice infatti la lunghezza era uguale alla larghezza, con chiaro riferimento al numero due. Infine, passando dall'immagine bidimensionale a quella tridimensionale, aggiunge alla lunghezza e alla larghezza l'altezza. Il riferimento al numero tre era chiarissimo. Ora, poiché l'unità di misura è dodicimila stadi, avremo una sequenza numerica formata dai numeri, dodicimila per quattro uguale a quarantottomila, dodicimila per due uguale a ventiquattromila, dodicimila per tre uguale a trentaseimila. Per comodità, consideriamo i numeri senza tener conto degli zeri e vediamo che la descrizione voleva mettere in luce i seguenti rapporti. Quarantotto in rapporto a ventiquattro è come il rapporto di due a uno. E questo è il rapporto della diapason. Poi, quarantotto in rapporto a trentasei è come quattro in rapporto a tre. E questo è il rapporto della sesquiterza. Poi, il rapporto di trentasei a ventiquattro è come il rapporto di tre a due. E questo è il rapporto di sesquialtera. Ora, inseriamo i due rapporti 4-3-3-2 nell'ambito della diapason, cioè all'interno di 2-1, e otteniamo la rappresentazione numerica, e nella diapositiva è a piedi pagina, della consecuzione di consonanze che formano, come vedremo fra poco, la consonanza composta di diapason. Un'altra particolarità del testo è costituita dall'impiego di due diverse unità di misura, i cubiti per l'altezza del muro, sono 144, e gli stadi per la lunghezza, 12.000. Noi trasformiamo ora gli stadi in cubiti e avremo che 12.000 stadi corrispondono a 4.800.000 cubiti. Anche in questo caso possiamo eliminare gli zeri. Attenzione, consideriamo gli zeri un semplice artificio narrativo volto a enfatizzare quantitativamente il senso qualitativo, o se si preferisce il valore simbolico, dei numeri interi. Vediamo allora quale sia il rapporto tra l'altezza e la lunghezza del muro. Quindi il rapporto di 144 a 48. Beh, è semplice, il loro rapporto si concretizza nel numero 3. E lo stesso può essere se trasformiamo i cubiti e gli stadi in piedi, cioè 216 e 72, il loro rapporto sarà sempre 3. E 3 è il numero delle consonanze, copierai di Aristotele, che formano la diapason. Riprendiamo l'orogramma e definiamone con precisione tutti i 12 settori. Partendo dal settore corrispondente alla sede dell'ingommessurabile, assunto in termini di unità di misura, definiamo i limiti dei rimanenti settori. Qui occorrono alcune osservazioni. Prima osservazione. L'incommessurabile deriva dalla divisione geometrica della diapason ed è, da un punto di vista numerico, di natura totalmente opposta al commessurabile. Ne deriva che la posizione di quest'ultima sarà nel settore opposto al già definito medio geometrico, come si vede nel primo diagramma. Poiché l'incommessurabile, cioè l'estremo orientale della diapason, è la grandezza o misura di riferimento, infatti è dalla sua divisione che ha origine l'incommessurabile, quindi rappresenterà il punto di riferimento per la posizione di tutti i rimanenti suoni della futura scala. E quindi il suo settore sarà contrassegnato dal numero 1, come nel secondo diagramma. Seconda osservazione. La numerazione dei settori successivi può seguire due percorsi, in senso orario o in senso anti-orario. Poiché la sesquiterza limita il medio geometrico dal lato a sinistra, per indicarne la relativa posizione useremo un orogramma numerato in senso anti-orario. Viceversa, per la sesquialtera useremo un orogramma numerato in senso orario. Come si vede nel terzo e quarto diagramma, l'orogramma numerato in senso orario è l'immagine speculare del primo, nel senso che è ottenuto dalla rotazione del primo orogramma sul proprio asse, formato dall'opposizione del commessurabile e dell'incommessurabile, cioè l'asse formato dai settori 1 e 7. In entrambi i casi, i due settori saranno sempre contrassegnati dai numeri 1 e 7. Terza osservazione. L'orogramma, a questo punto, rappresenta il duodenario, cioè l'insieme dei dodici settori che costituiscono l'essenza, o se si vuole il significato, della diapason. Ed è in base al duodenario che possiamo definire le misure modello relative ai due segmenti che rappresentano i due termini della diapason. Il dodici corrisponderà alla misura della corda minore, il ventiquattro a quella maggiore. L'importanza delle misure sta nel fatto che a ogni numero ora corrisponde una casella dell'orogramma e a ogni casella corrisponde una nota che avrà in tal modo una posizione precisa all'interno della diapason. A fianco dei quattro diagrammi sono riportate le formule che traducono nel linguaggio matematico corrente le proporzioni tramandate dai pitagorici relativi al medio arilmetico, sesqui terza, e al medio armonico, sesqui altera. La prima proporzione non è altro che la descrizione numerica del procedimento da cui poi abbiamo ricavato la forma della vessica piscis. La seconda è la riflessione speculare della prima. Il numero due, da divisore, si trasforma in dividendo e la somma dei dividendi, a loro volta capovolta in frazioni, si trasforma in divisore. Ma ciò che ci interessa qui non è l'elegante vicenda dei simboli numerici, è il numero che si ottiene inserendo nell'algoritmo i valori numerici 24 e 12. Infatti il valore 18 per la sesquiterza e 16 per la sesquialtera oltrepassano l'ambito della diapason e quindi non trovano posto nel duodenario formato dai dodici settori. La situazione è identica a quella già incontrata nella lettura della scala tramandataci da Euclide, laddove al quarto passaggio siamo ricorsi al principio di identità per ricondurre il suono esterno all'interno della diapason. Questo significa che i settori relativi ai due valori numerici 18 e 16 non si trovano nella diapason rappresentata da un singolo orogramma e la rappresentazione diagrammatica dovrà dunque contemplare due orogrammi corrispondenti a due diapason. Vediamo in questa diapositiva come si possano sovrapporre gli orogrammi e quindi rappresentare in un solo diagramma la sovrapposizione di due o due denari o diapason. Il diagramma così ottenuto si chiamerà disdiapason, cioè doppia diapason. Gli orogrammi della riga superiore sono numerati secondo l'orientamento anti-orario, quelli nella riga inferiore secondo l'orientamento orario. I due orientamenti degli indici numerici orario e anti-orario rispecchiano la derivazione speculare o rotatoria del medio armonico dal medio aritmetico, quindi le due disdiapason raffigurate nel terzo diagramma di entrambe le righe visualizzano l'una il percorso relativo al medio aritmetico, che abbiamo detto è il limite di sinistra o limite occidentale o limite della sesquiterza. L'altra il percorso relativo al medio armonico o limite di destra o limite orientale o limite della sesquialtera. Per poter sovrapporre gli orogrammi in modo leggibile, l'orogramma relativo alla seconda diapason contenente i settori da 13 a 24, settori che replicano i settori da 1 a 12 dell'orogramma di riferimento, è stato rimpicciolito ed inserito telescopicamente nell'orogramma di riferimento. In entrambi gli orogrammi i numeri dei settori sono inseriti in corone circolari. La disdiapason nella riga in basso a destra della positiva, in seguito alla sovrapposizione, presenta l'orogramma interno con la numerazione che segue due opposti percorsi. Il primo, in direzione anti-oraria, si ferma al settore 18, perché in questo settore assiede il medio aritmetico o sesquiterza. Il secondo, in direzione oraria, si ferma al settore 16, perché in questo settore ha la sua sede il medio armonico o sesquialtera. Da notare che i settori 18 e 16 nella corona circolare interna corrispondono in quella esterna, cioè nella diapason di riferimento, ai settori 6 e 8. Ora è da notare che qualunque sia la direzione degli indici numerici, in senso orario o in senso anti-orario, la sede del medio aritmetico sarà sempre nel settore corrispondente al numero 18 che, a sua volta, corrisponde, nel loro gramma di riferimento, al settore 6. Il medio armonico, in quanto derivazione speculare del medio aritmetico, sarà sempre nel settore simmetricamente opposto rispetto all'asse di simmetria rappresentato dal medio geometrico, cioè il settore 8. In ogni caso, i due medi fungono da limite occidentale e limite orientale, così li abbiamo chiamati, di un incommensurabile medio geometrico, sempre e inesorabilmente nel settore 7. La scala nell'immagine in alto a destra è un'altra possibile rappresentazione visiva della corrispondenza tra i settori i cui contrassegni numerici disposti sulle pedate degli scalini superano l'ambito della diapason e i settori i cui contrassegni numerici disposti sulle alzate degli scalini sono posti all'interno della diapason di riferimento. Anche così, l'indice numerico 18 è in corrispondenza con il settore 6 e l'indice numerico 16 con il settore 8. Siamo ora in grado di disporre di un modello di diapason con il quale filtrare il continuum in modo da costruire un sistema scalare i cui suoni costitutivi siano congruenti alla natura consonantica della diapason. Il modello è assumibile in termini di matrice essendo stato costruito sul presupposto che i due medi significano in quanto limiti di un incommensurabile che, a sua volta, deriva dalla segmentazione della diapason operata in base a quella stessa procedura, la proporzione geometrica, con cui è stato, per così dire, affettato il continuum. Arrivati a questo punto, sappiamo che non è possibile costruire, e sottolineo costruire, alcuna scala se non utilizzando il modello delle tre consonanze, il che significa per prima cosa essere consapevoli del fatto che il referente scalare ha senso se e solo se è in rapporto di complementarità oppositiva nei confronti del medio geometrico. In secondo luogo, che il medio geometrico è delimitato da un limite orientale, il medio aritmetico, che si trova a sei settori di distanza dal referente scalare, e da un limite occidentale, il medio armonico, che si trova a otto settori di distanza dal referente scalare. In termini Schrödingeriani, le fusa delle due gattine hanno un senso solo se dietro la porta sempre chiusa si trova il gatto che loro pensano vivo, non sapendo che per Schrödinger è morto. A un certo punto della Repubblica di Platone, Socrate, conversando con Glaucone, ti rimballo quelle brave persone, così le chiama Glaucone, che si danno un grande affare a tendere le corde dei loro strumenti per individuare quali suoni si possano inserire tra le altezze definite dalle scale canoniche, per poterli usare come unità di misura, e osserva che in questa attività mostrano di anteporre le orecchie all'intelletto. Infatti, conclude Glaucone, così facendo cercano i rapporti numerici senza però risalire ai problemi, cioè non esaminano quali numeri sono consonanti e quali no e per qual motivo. In sostanza, dicono i due, costoro si dedicano a problemi di accordatura senza preoccuparsi di capire le ragioni per cui la scala è quella che è, ed è quella che è per ragioni strutturali che non hanno nulla a che fare con i problemi di accordatura. Insomma, le variazioni di accordatura non potranno mai modificare la struttura originaria del modello posto alla base della costruzione della scala, perché è proprio la stabilità del modello che permette le variazioni di accordatura, le quali variazioni non potranno mai sostituirsi al modello. Ora, se vogliamo risalire ai problemi, come suggerisce Socrate, dobbiamo capire in quale modo il modello sia stato ab antico utilizzato come una matrice per la definizione del numero di note compatibili con l'essenza della diapason. Se per visualizzare le corrispondenze tra i tasti neri e le cinque punte del pentagramma di Venere abbiamo immaginato di curvare la tastiera in modo da farle assumere la forma di un cerchio. Ora, al contrario, dobbiamo immaginare di aprire l'orogramma a metà, come fosse un mandarino sbucciato, tagliando a metà lo spicchio contrassegnato dal numero uno e distendendo i rimanenti spicchi su di un piano. I dodici spicchi, dobbiamo immaginare che gli spicchi siano dodici, corrispondono ai tasti di una immaginaria tastiera, i cui tasti sono tutti bianchi e di uguale dimensione, ad eccezione di quelli che corrispondono alla diapason, cioè il primo e l'ultimo, al medio arilmetico e al medio armonico. Questi tasti sono più grandi e corrispondono ai numeri 1 e 13, gli estremi della diapason, e a 6 e a 8 il medio arilmetico e il medio armonico. Il medio geometrico, la porta chiusa dietro la quale si trova Maramao, è indicata con un tasto accorciato e col segno del lutto, cioè colorato di nero. Per la costruzione della scala utilizziamo un orogramma formato da un cerchio centrale con i settori numerati e circondato da tre corone circolari o anelli. Nell'anello esterno inseriremo i simboli relativi alla natura qualitativa delle note, un quadrato per le note commensurabili, un cerchio nero per le incommensurabili. Nel secondo anello le lettere corrispondenti al nome delle note, nel terzo, il più piccolo, i settori che coprono la distanza tra il referente scalare e il medio armonico, o si se preferisce la sesquialtera. In omaggio a Schrödinger tratteremo la stregua di gatti vivi e le gattine innamorate, il referente scalare e tutti i medi arilmetici armonici che verranno via via identificati, ed i gatti morti, maramao, i medi geometrici. Anche in questo caso, come per la descrizione della scala Euclidea, non sapendo in anticipo il numero dei gatti vivi e dei gatti morti, battizziamo alla nascita i gatti vivi, seguendo, via via verranno alla luce, l'ordine delle lettere dell'alfabeto, cioè A, B, C, D e così via. E inseriremo le lettere nei settori la cui numerazione è posta nel cerchio più interno del loro gramma. I gatti morti si accontenteranno di essere contrassegnati dal numero della casella in cui riposano. Alla destra del loro gramma si verrà costruendo la tastiera relativa alla scala informazione. E qui abbiamo due serie di numeri. I numeri posti sopra le tesserine attraversate da un filetto corrispondono ai numeri posti nel cerchio interno del loro gramma, mentre i numeri posti sotto alla tastiera, alla tastiera che stiamo formando, indicano la posizione dei tasti bianchi in relazione alla posizione del referente scalare. Il procedimento consiste, una volta individuate le due consonanze corrispondenti al medio aritmetico e al medio armonico, nell'assumere la seconda delle due consonanze, cioè il medio armonico, come referente scalare o primo termine di un'ideale diapason. Quindi individuare i settori in cui saranno collocati il relativo medio geometrico e i due rispettivi limiti, medio aritmetico e medio armonico. L'anello che circonda il cerchio centrale ha otto caselle numerate dall'1 all'8 ed è mobile. Si deve cioè immaginare che possa girare attorno al cerchio in modo che la casella con il numero 1 venga a coincidere con il settore dell'ultimo medio armonico individuato. Così facendo, i settori corrispondenti alle caselle 6 e 8 verranno a essere automaticamente individuati. Partendo allora dal settore 1, in cui ha sede il referente scalare, che identifichiamo con la lettera A, e quindi parliamo della nota A, si annerisce al settore 7, sede del medio geometrico e opposto al primo. Si contano poi, a partire dal settore 1, 6 passi e si individua la sede del medio aritmetico, settore 6 e quindi nota B. Si prosegue poi fino a 8 e si trova la sede del medio armonico, settore 8, nome battesimale della nota la lettera C. La tastiera a questo punto presenta tre tasti bianchi e un tasto nero. I tasti bianchi sono la rappresentazione visiva di una scala trifonica formata dalle note A, B e C. Ora, poiché il modello funge da matrice, si ruota l'anello in modo da far coincidere la casellina con il numero 1 al settore 8, corrispondente alla nota C. Vediamo che alla casellina numero 7 corrisponde il settore 2. Questo settore è la sede del medio geometrico, cioè gatto morto, e quindi verrà annerito con un tratteggio. Al limite occidentale il medio aritmetico coincide con il referente scalare, nota a noi già nota. Si tratta della nota A che appartiene alla schiera dei gatti vivi. Al limite orientale la casellina 8 corrisponde al settore 3 e quindi sarà la sede di un nuovo medio armonico, la nota D. La tastiera visualizza ora una scala tetrafonica formata dalle note A, D, B, C. Proseguendo, si posiziona ora la casellina 1 in corrispondenza del settore 3 e si procede come prima. La nuova nota è la E nel settore 10. Siamo ora in presenza di una scala pentafonica A, D, B, C, E. Il punto di partenza è ora il settore 10. Il settore opposto, che sarà la sedia del medio geometrico, è il 4 e quindi qui c'è Maramau. Il medio aritmetico, casellina 6, corrisponde al settore 3, che è già stato occupato da un precedente medio armonico, la nota D. Quindi la gattina viva, nella casellina 8, cioè medio armonico, ovvero la nota F, occuperà il settore 5. Se guardiamo il disegno della tastiera salta subito agli occhi che si è verificato un fatto degno di nota. I tasti corrispondenti alle note F e B sono contigui, cioè tra loro non vi è posto per un tasto nero. Se poi controlliamo la situazione sul loro gramma, vediamo che il semicerchio occidentale è completamente popolato dai gatti vivi e morti. Questo è l'ultimo passaggio. Con il referente assegnato alla nota F troviamo come al solito il settore opposto rappresentato dal medio geometrico, il settore 11. Poi un settore corrispondente al medio aritmetico, già individuato in precedenza alla nota E. Infine il settore del nuovo medio armonico, il settore 12, corrispondente alla nota G. Ora, come si può vedere, tutti i settori sono occupati e il procedimento qui si deve necessariamente interrompere. L'immagine è ora una scala eptafonica formata dalla consecuzione delle note A, D, F, B, C, E e G ed è caratterizzata dalla consecuzione dei settori 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12. Questa è la scala matriciale, cioè la scala che deriva dall'assunzione del modello delle tre consonanze, le famose tre consonanze citate da Aristotele, in termini di matrice. La rappresentazione visiva dell'alternanza commensurabile verso incommensurabile trova una consonanza narrativa nell'unico frammento rimastoci di un libro del pressocatico Anassimandro, dal titolo Perifuseos, cioè sulla natura, è citato da semplicio nel commentario La fisica di Aristotele. La traduzione della prima parte del frammento, tolto il pulviscolo terminologico di matrice mitica, può essere tutte le cose sottostanno a una legge universale che le destina fatalmente a trasfigurare, o si preferisce a dissolversi, in quegli stessi elementi da cui hanno avuto origine. Per apprezzare la consonanza del testo di Anassimandro con l'immagine della scala matriciale, riprendiamo l'orogramma e vediamo cosa succede se, anziché fermarci, continuiamo nella ricerca di un ulteriore medio geometrico e a relativi limiti. Quindi ruotiamo l'anello in modo da far coincidere la casellina 1 con il settore dell'ultimo limite trovato, il settore C. E facciamo attenzione ai settori posti in corrispondenza delle caselline 6, 7 e 8, cioè i settori 5, 6 e 7. Questi settori ci interessano perché corrispondono al medio geometrico, il settore 6, cioè l'incommensurabile Maramao, e ai rispettivi limiti commensurabili. Il settore 5 rappresenta il limite occidentale del medio geometrico, è commensurabile ed è già occupato da un gatto vivo alla nota F, quindi è disponibile per i gatti vivi, cioè per il commensurabile. Il problema nasce invece col settore 6, corrispondente alla casellina 7, che incrociamo quindi proprio al settimo passo. Il settore 6 è opposto al commensurabile settore 12 e, per definizione, è destinato a Maramao, cioè all'incommensurabile medio geometrico. E dico per definizione perché se così non fosse, l'essenza della di Abason si disintegrerebbe. Ma qui il settore 6 è già occupato dalla nota B commensurabile. E allora i casi sono due. O si ipotizza la possibilità di accettare la compresenza di commensurabile e incommensurabile, in termini Schrödingeriani la possibilità di un gatto vivo e contemporaneamente morto. Oppure si considera il fenomeno come indice di un mutamento radicale dal ruolo svolto fino ad ora dalle note della scala. Il fenomeno dell'attualizzazione dell'incommensurabile è illustrato nell'immagine della tastiera dal rettino che ricopre il tasto nero corrispondente al settore 7 e che indica l'attualizzarsi di uno scambio dei ruoli. Il tasto nero ora non indica più quei suoni che, quando ci siamo occupati della descrizione euclidea della scala, abbiamo considerato mere presenze virtuali, utili a segnalare le contiguità caratterizzate dall'accostamento di una sesquitezza a una sesquialtera. Tant'è vero che nella scala matriciale non sono stati neppure battizzati, cioè non hanno ricevuto un nome. Ora, ciò che prima era virtuale diventa fatalmente reale e ciò che prima era reale diventa virtuale. È chiaro che siamo in presenza del fenomeno di trasfigurazione di cui parla Nassimandro e il tasto nero trasfigura in un vero e proprio referente di un'entità scalare contenuta nella scala matriciale, una seconda scala coessenziale alla prima. Costruiamo allora la nuova scala. Anche questa volta inseriamo i tasti volta per volta, solo che al posto dei tasti bianchi avremo i tasti neri e viceversa. I numeri sopra la tastiera indicano i settori corrispondenti alla posizione dei suoni relativi alla scala matriciale, mentre i numeri posti sotto indicano le posizioni dei suoni nei confronti del referente scalare. Quindi il referente scalare contrassegnato dal numero 1 corrisponderà al settore 7. Il limite occidentale al settore 12 e quello orientale al 2. Per i nomi delle note utilizzeremo come prima le lettere in ordine alfabetico, ma copiando le lettere minuscole e magnuscole, cioè al posto di A, B, C, C e così via. Come al solito l'ultimo passo, cioè il medio armonico C, D, C sarà il punto di partenza per il passo successivo. Troviamo così il secondo medio armonico, la nota D, D, D e siamo quattro gatti morti e due gatti vivi. Quindi il terzo, la nota E di E. E possiamo notare che l'immagine che si va formando dalla tastiera è una copia della tastiera già ottenuta in precedenza. E partendo da E di E troviamo la nota F di F. I gatti morti ora sono sei contro quattro gatti vivi. E infine arriviamo alla nota G di G, con la quale completiamo l'orogramma. L'immagine della scala è identica la precedente. L'unica differenza, lo si vede dalla tastiera, è nella colorazione dei tasti. Dove nella prima erano bianchi, qui sono neri. E dove nella prima erano neri, i tasti sono bianchi. Come abbiamo fatto per la scala matriciale, anche in questo caso possiamo continuare nella ricerca di un ipotetico sesto medio armonico. E come prima, il problema si pone col settore 12. In corrispondenza dalla casellina 7, il medio geometrico qui dovrebbe essere commensurabile e invece è incommensurabile. E come prima, il settore successivo, corrispondente al medio armonico, ci pone di fronte al dilemma della presenza del gatto vivo e insieme morto, oppure della trasfigurazione. In questo caso, la scala dei gatti morti si trasformerebbe di nuovo nella scala dei gatti vivi. Si tratta in ogni caso di un processo dinamico, in continua trasformazione o dissoluzione perpetua, dai commensurabile nell'inconmensurabile. Proprio come dice Anassimandro, nella seconda parte del frammento S, cioè tutte le cose, si scambiano reciprocamente le funzioni rappresentate dalle posizioni occupate lungo il cerchio del tempo. Lo scambio reciproco delle funzioni appartiene sempre all'area concettuale in cui è compreso il già noto Tai Chi Tu. Vediamo ora di fare il punto della situazione e confrontiamo l'orogramma della scala matriciale, ovvero l'orogramma dei sette gatti vivi e cinque morti, nella diapositiva in basso a sinistra, con l'orogramma della scala che abbiamo definito in alto a sinistra. Nell'orogramma matriciale i settori destinati ai gatti vivi sono tutti contrassegnati dal nome delle note A, D, F, B, C, E e G, mentre i cinque settori destinati ai gatti morti ne sono privi. Ne sono privi per il semplice motivo che la funzione dei gatti neri era quella di segnalare la contiguità del medio aritmetico e del medio armonico, cioè i limiti commensurabili dell'incommensurabile. Nella scala coessenziale, invece, essendo il gatto vivo trasfigurato nel gatto morto, è proprio quest'ultimo a svolgere il ruolo di referente. Quindi anche i gatti morti sono stati contrassegnati con i nomi delle note A, di A, D di D, F di F, B di B e così via. Ora, essendo le due scale coessenziali, nel senso che nessuna delle due potrebbe esistere senza la presenza dell'altra, gli elementi dell'una si incastrano perfettamente tra gli elementi dell'altra. E infatti l'orogramma ci mostra il settore della nota A di A che si oppone simmetricamente al settore della nota A, quello della nota D di D che si oppone simmetricamente al settore contrassegnato della nota D e così via per i rimanenti settori. Sì, per i rimanenti settori tutti tranne 2. E guardiamoli allora. La nota G di G che si trova nel settore 12 dell'orogramma avrebbe dovuto trovare come opposizione la nota G nel settore 6, ma il che non è. E così accade anche per la nota B di B, che si trova nel settore 6 dell'orogramma coessenziale. A questa nota si dovrebbe opporre la nota B nel settore 12, ma il che non è. Ebbene, cosa accade di particolare? Nel primo caso la nota G, simmetricamente opposta alla nota G di G, si trova veramente nel settore opposto, ma il settore che la contiene è nell'orogramma matriciale, precisamente nella casella 12. E lo stesso dicasi per la nota B di B, simmetricamente opposta alla nota B, ma che non si trova nell'orogramma matriciale, bensì in quello coessenziale. Quindi, se immaginiamo di sovrapportare i due erogrammi, e l'orogramma dei gatti morti, cioè quello posto in corrispondenza della scala coessenziale è già un'immagine della loro sovrapposizione, possiamo visivamente renderci conto di un fenomeno straordinario. In tutti i settori i gatti vivi e i gatti morti si delimitano a vicenda, tranne nei due settori che abbiamo appena visto, cioè i settori 6 e 12. In questi due settori i gatti non sono o vivi o morti, ma sono sia vivi che morti. Questo perché l'incommensurabile settore G di G si sovrappone, o meglio, si dissolve nel commensurabile settore B e il commensurabile settore G si dissolve nell'incommensurabile settore B di B. Ma a sua volta l'incommensurabile B di B si dissolve nel commensurabile G e così via in un processo inarrestabile. Ne consegue che in questa situazione il nostro Maramau si trova ad essere sia morto che vivo e ciò vale anche per la gattina, viva e al contempo morta. I settori 6 e 12 rappresentano quindi le coordinate di un mondo in cui i gatti di Schrödinger esistono realmente e la paradossalità trasfigura o si dissolve in plausibilità. Appaiano evidenti le similitudini tra questa particolare situazione e i simbolismi del Tai Chi Tu. L'area dello Yin, la parte tratteggiata, la parte oscura, corrisponde alla scala coessenziale, mentre l'area dello Yang, la parte senza tratteggio, la parte chiara, corrisponde alla scala matriciale. I due piccoli cerchi che nel Tai Chi Tu simbolizzano il seme dell'opposto contenuto in ciascuna delle due realtà concettuali corrispondono ai due settori orogrammatici in cui si verifica la compresenza del commensurabile e dell'incommensurabile. Nell'immagine delle due tastiere i due settori sono segnalati dai tasti ricoperti da un rettino e con buona ragione possiamo ora tranquillamente dare loro il nome di tasti di Schrödinger. I due tasti segnalano anche la posizione cronologica dei settori in cui è perennemente attivo il processo di trasfigurazione. Infatti la nota B, che corrisponde al primo medio armonico, è la nota con cui ha inizio il processo costruttivo della scala e quindi appare cronologicamente per prima, mentre la nota G, che corrisponde all'ultimo medio armonico, è la nota con cui il processo si conclude e quindi lungo il circolo del tempo arriva dopo. Queste due note insomma rappresentano in un certo senso i limiti o i punti nodali del sistema scalare. La singolarità di questo particolare fenomeno spiega il perché in passato la correlazione di queste due note sia stata associata all'immagine di un diabolus in musica. A questo punto mi pare possano essere ben chiari i motivi per cui la tastiera può essere considerata la cristallizzazione visiva di quei processi mentali in virtù dei quali è stato possibile ricavare dall'insieme indifferenziato dei suoni un universo sonoro dotato di senso e per così dire disponibili all'uso. Nell'immagine a sinistra, dove occheggia il diabolico gatto, le due tastiere relative alla scala matriciale, quella sopra, e alla scala ecoessenziale, quella sotto, sono state sovrapposte, in modo tale che i tasti corrispondenti all'incommensurabile della prima tastiera, i 5 tasti neri, si trovino in perfetta corrispondenza con i tasti neri della seconda tastiera e viceversa. Le lettere C e I indicano i tasti corrispondenti a commensurabile e all'incommensurabile. Ovviamente la corrispondenza non si verifica nei punti in cui il commensurabile si sovrappone all'incommensurabile, cioè in corrispondenza dei tasti di Schrödinger. In basso a destra è delineata un'allegoria visiva della platonica anima del mondo che si forma dividendo nel senso della lunghezza, ci dice Platone, l'insieme dei medi aritmetici armonici con cui si costruisce il sistema scalare. Poiché il sistema scalare è costituito dall'intreccio della scala matriciale di quella coessenziale, l'unico modo di dividere in due nel senso della lunghezza l'insieme, o per usare le parole di Platone, tutta questa composizione, consiste nel separare la scala matriciale da quella coessenziale. In termini visivi si tratta di ottenere due tastiere, l'una formata dai soli tasti bianchi e l'altra dai tasti neri, compresi ovviamente i tasti di Schrödinger. Quindi, come scrive Platone, adattare l'una parte sull'altra nella loro metà in forma di una chi. La loro metà non potrà essere che il medio aritmetico corrispondente ai tasti di Schrödinger. Ora, con la mediazione della tastiera possiamo anche apprezzare le similitudini tra la chi platonica e il Tai Chi Tu. I tasti bianchi, che simboleggiano il razionale o il commensurabile, sono il parallelo visivo della parte non tratteggiata nel Tai Chi Tu, che a sua volta simboleggia l'energia maschile o la luminosità. I tasti neri o l'irrazionale o l'incommensurabile sono il parallelo della parte tratteggiata, che sta a simboleggiare l'energia femminile o il lato oscuro. E due piccoli cerchi? Beh, i due piccoli cerchi non sono altro che i due tasti di Schrödinger. Ma noi sappiamo che la chi platonica è anche un'allegoria cosmologica in cui i tasti bianchi simboleggiano la rappresentazione del medesimo, cioè l'orbita dell'equatore celeste, mentre i tasti neri simboleggiano la rappresentazione del diverso, vale a dire l'orbita dell'eclittica. E qui, commento migliore non vi può essere delle parole di Werner Heisenberg, il mondo appare così come un complicato tessuto di eventi in cui diverse specie di connessioni si alternano, si sovrappongono e si combinano, determinando la struttura del tutto. Un'ultima testimonianza, circa il legame tra la tastiera, vista come cristallizzazione visiva di costruzioni concettuali, e l'organizzazione del tempo, la si trova esaminando la metodologia impiegata nella consecuzione dei pianeti corrispondenti al nome dei giorni della settimana. La diapositiva presenta quattro orogrammi, i cui settori non tratteggiati corrispondono alla consecuzione della scala matriciale, cioè i settori corrispondenti ai numeri 1, 3, 5, 6, 8, 10 e 12. Nell'orogramma centrale sono stati posti i due luminari, la Luna nel settore 1, che è il settore del referente scalare, e il Sole nel settore 6, che corrisponde al settore del medio aritmetico. L'orogramma sulla sinistra presenta i cosiddetti pianeti interni, cioè Mercurio e Venere, nei settori 3 e 5, mentre nell'orogramma sulla destra i pianeti cosiddetti esterni, settori 8, 10 e 12, cioè il settore di Marte, Giove e Saturno. L'orogramma al centro in basso presenta tutti i pianeti accanto a ciascuno dei quali è indicato il relativo nome del giorno. Seguendo l'ordine della scala, cioè seguendo i settori 1, 3, 5, 6, 8 e così via, la nostra settimana dovrebbe essere formata dalla consecuzione lunedì, mercoledì, venerdì, domenica, martedì, giovedì e sabato, il che non è. La domanda è, per quale motivo non si è seguito quest'ordine? E poi ancora, quale tra questi giorni deve essere considerato il primo della settimana e quale è l'ultimo? Il fatto è che l'ordinamento dei giorni segue passo passo la costruzione della scala matriciale, basata sull'impiego del modello formato dalle tre consonanze, il modello che abbiamo usato come matrice. Partendo da qualunque pianeta o giorno, si contano sei settori e si arriva al settore del medio aritmetico, se ne contano otto e si arriva a quello del medio armonico. Nel settore relativo al medio aritmetico si legge il pianeta che dà il nome al giorno che precede quello di partenza. Mentre nel settore relativo al medio armonico si legge il nome del pianeta corrispondente al giorno successivo. Ad esempio, partendo da giove, giovedì, nel settore dieci, si contano sei passi e si arriva al medio aritmetico nel settore tre. Il settore tre contiene mercurio e quindi mercoledì è il giorno che precede giovedì. Sempre partendo da giove, si fanno otto passi e si arriva al settore cinque, dove troviamo venere. Venerdì è di fatto il giorno che segue giovedì. Si assume allora giovedì come referente di un nuovo modello e si prosegue lo stesso modo. Il procedimento è illustrato passo dopo passo nella tabella. Ovviamente giovedì non è il primo giorno della settimana e nemmeno l'ultimo. Il primo giorno della settimana sarà quel giorno che nella casella del proprio medio aritmetico non troverà un pianeta ma il tratteggio dell'incommensurabile. Infatti nella tabella si vede che l'unico pianeta a partire dal quale il settore corrispondente al medio aritmetico corrisponde all'incommensurabile, cioè è privo di pianeti, è il Sole. E conseguentemente l'ultimo giorno sarà quello che nella casella del relativo medio armonico non vi sono pianeti, ma il tratteggio dell'incommensurabile. E questo pianeta è Saturno, cioè Sabato.